La scheggia impazzita di riforma arrivati improvvisamente che avrebbe voluto anticipare i tempi. Anche qui va detto con chiarezza che l'avvocatura penale non è... ...meraviglioso... 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 ...l'adrenalina e intanto una fame che vuoi fare un piatto di pasta... ...e lo facevamo... ...esatto, esatto, esatto... ...ma è un po' più... Però grazie, grazie amico! Grazie! Shame, shame, shame... ...Sherling Company! Asquiro l'om... ...compa... ...compa... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.